il paolo è sempre stato molto attento alla pittura è un uomo che amava moltissimo la pittura tant'è vero che dipingeva anche lui io ho visto diversi quadri suoi e c'era un occhio proprio da pittore quindi è anche nel suo cinema si vede la sua cura pittorica proprio si ispira alle volte a dei pittori come il pontormo come giotto insomma c'è sempre un riferimento pittorico dei film da lui girati secondo me era molto affezionato ai primi e poi anche molto quello di totò e di netto a terra vista della luna che perché a lui piaceva anche molto il gioco piaceva molto l'invenzione piaceva molto il film quasi che usciva dalla narrativa dalla storia e che diventava pura metafora insomma parabola ecco e certamente quello lo era è quello infatti è piaciuto poi lavorare con la musica trovare la musica giusta eccetera dei film degli altri è difficile dire perché io l'ho visto entusiasmarsi per i film di orson wells infatti l'ha voluto per la ricotta per il film di tarkovsky piacevano molto non so non saprei dire difficile dire quali film perché secondo l'uscita mi ricordo che ogni anno c'era un film due film per cui si entusiasmava altri film che magari gli piacevano di meno per cui è molto difficile dire un film o due film perché è come dire gli altri non mi interessano invece lui si interessava molto al cinema andava molto al cinema gli piaceva il film il cinema americano cinema insomma certo il cinema d'autore questo non c'è dubbio dove si sente la presenza dell'autore meno quelli di confezione se fosse stato per lui forse avrebbe fatto il cinema solo con facce disconosciuti perché lui anche quando abbiamo curato il doppiaggio di certi film lui voleva voci di non attori quindi lui cercava un rapporto con l'immagine reale insomma quasi un neorealismo rivisitato attraverso la pittura ma insomma poi però gli attori e beh sono importanti anche perché gli attori nel cinema nel mercato allora dovendo tener conto del mercato eh lui sceglieva però degli attori che avessero mantenuto una loro personalità ecco che non fossero veramente attori al cento per cento ma anche avessero qualche cosa di personale che rompeva le tradizioni e le convenzioni della dell'attorialità ecco questo era il fatto che poi si è ritrovato con totò si è ritrovato con la magnani si è ritrovato con la manga non trova cercava delle facce dei personaggi che uscissero un po dalla convenzione cinematografica io non è che ama molto andare sul set perché nel noiosissimo perché bisogna aspettare ore che sia pronta la scena tutta la parte tecnica è molto lunga e noiosa però tante volte sono andata per salutarlo e per vedere qualche momento non so quando girava con la calla con ninetto con totò però i momenti più belli che io ricordo sono quelli che precedono il film perché tante volte noi siamo andati in viaggio per cercare i luoghi era un pretesto il viaggio o era un pretesto la ricerca dei luoghi insomma le due cose coincidevano e quindi l'andata per esempio lo yemen è stato un viaggio bellissimo straordinario però lui in realtà cercava i luoghi per un film poi non sono il congo o nell'africa del nord in marocco la tunisia abbiamo fatto tantissimi viaggi che precedevano i suoi film e per me questa esperienza era la parte migliore perché poi la fattura proprio del girare il film è un momento molto noioso quindi invece preparare il film vedere i luoghi trovare i set insomma gli ambienti dove girare è la cosa che più mi è sembrata la cosa più bella più interessante un episodio che può essere interessante che una volta lui doveva girare l'orestiade in africa poi cristaldi non ha più voluto però noi siamo andati in africa per cercare i luoghi dell'orestiade e devo dire che lui ha trovato dei luoghi magnifici e anche dei personaggi africani che dovevano fare oreste che dovevano fare il chitennestra che dovevano fare lettere e avevano trovato dei persone straordinarie poi hanno detto che questo film africano non avrebbe funzionato vabbè la cosa è finita lì però lui poi ha fatto un documentario bellissimo che si chiama appunti per un'orestiade africana beh io ero lì quando facevamo queste ricerche e durante proprio il girato di questa premessa al film l'orestiade comincia con il fumo cioè c'è una guardia che nel palazzo degli atridi guarda l'orizzonte perché deve vedere un segnale di fumo che è il segnale del ritorno di agamendone pier paolo si era messo in mente che voleva trovare un fumo che non l'aveva fatto lui ma che doveva venire dalla realtà africana e che doveva essere quel fumo lì allora io mi ricordo che avevamo girato tre giorni tre giorni nel proprio nel deserto africano per cercare il fumo giusto perché ogni tanto si vedeva un fumo correvamo con le nostre land drop e verso questo fumo alle volte però non era troppo grasso poi alle volte era nero poi alle volte era troppo bianco alle volte era troppo intenso insomma non si riusciva a trovare il fumo giusto però devo dire che questa ricerca del fumo è stata una delle cose più strane più surreali ma anche più poetiche di quel nostro viaggio in africa perché giravamo in tondo è stata una cosa bellissima poi alla fine ha trovato un fumo che voleva però purtroppo poi il film non si è fatto